www.fipili.com In a 12 in direzione Livorno coda per lavori tra Massa e Versilia. Con il rientro a scuola anche delle superiori è in atto una nuova fase del trasporto pubblico. Aggiornamenti e collegamenti in diretta sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 800 570530. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!